Sono delle situazioni speciali. Jacopo l'ho visto prima giocare insieme agli altri bambini. Ho visto tutte le borse appese su Jacopo, no? E diciamo che è un po' la normalità. Però in questa specialità loro hanno bisogno di forza. E la forza siamo noi. E posso dire che in queste situazioni anche loro sono la nostra forza. Perché ci fanno capire veramente il senso della vita. E ci fanno unire principalmente. È vero. E grazie a Jacopo che questa sera ci siamo ritrovati. Grazie Jacopo! Grazie a 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 Jacopo! Grazie